Giardino Capaci, Capaci di che? Capaci di cambiare? Capaci di dire no alla mafia? Alla presenza di Tina Montinaro è stato intitolato il Giardino di Mattia a Candeglia, nella prima collina di Pissoia, al marito Antonio Montinaro e agli altri agenti della scorta del giudice Falcone, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, uccisi nella strage di Capaci. Io penso che i territori appartengono a noi, appartengono ai cittadini e dobbiamo fare in modo che non siano gli altri ad appropriarsi di certi posti. Quindi io sono proprio contenta di trovare un giardino così bello, così grande, che ricorda Antonio Vito e Rocco. Il percorso ha bascennato nel 2017 dall'incontro con Tina. Il primo incontro è avvenuto a Pistoia e Tina riuscì a trasmettermi un'emozione e la voglia veramente di fare qualcosa per chi ha perso la vita per tutti noi. Si ricorda la lotta alla mafia e soprattutto si ricorda non in modo astratto, ma attraverso quelle persone che hanno sacrificato la loro vita per combatterla, per difendere giudici come Falcone e Borsellino. La legalità fa parte di un'aspirazione ed è il compito vero che le istituzioni hanno, trasmetterla alle nuove generazioni come elemento fondante della loro formazione. La giornata è proseguita con l'inaugurazione di un murale dedicato ad Antonio Montinaro alla scuola primaria Rodare di Candeglia. Abbiamo deciso di realizzare un omaggio in memoria appunto della sua figura e per quello che rappresenta nella lotta alla mafia. Abbiamo fatto questo lavoro condiviso anche con i bambini che sono venuti a vedermi mentre lavoravo e grazie a questo è venuta anche fuori l'idea di continuare a collaborare insieme alla scuola per ampliare il murale e per concluderlo insieme a loro. Il percorso legato alla legalità continuerà all'interno della scuola e continuerà anche nel murales che andremo a disegnare nella parte dell'istituto comprensivo legato alla scuola secondaria di primo grado. La volontà è quella di creare nei bambini una cultura della legalità, una sensibilità su quali sono i comportamenti e gli atteggiamenti da portare avanti nella vita di tutti i giorni.